Padre Gianni Balsarini ha fatto la predica sulla protesta di noi tifosi della Juventus via social hashtag Allegri Out tutti i giorni sotto tutti i post della Juventus per spingere Allegri alle dimissioni o la società all'esonero. Secondo padre Balsa è inutile, Allegri non si dimetterà mai perché il web lo spinge a tanto né la Juventus lo esonererà mai perché il web lo spinge a tanto. Lo stesso padre Balsa che dice mi raccomando sostenete la squadra e i ragazzi perché altrimenti ne risentono. Ah allora il web cerca qualcosa? E lo stesso padre Balsa che è tra i giornalisti che in questi due anni hanno giustificato l'ingiustificabile, difeso l'indifendibile e protetto Allegri da ogni critica invece di criticarlo. Quindi loro avrebbero potuto cambiare le cose spingendo per l'esonero o le dimissioni con delle critiche basate sul merito ma non l'hanno fatto e adesso vengono a dire a noi che è inutile che protestiamo. Ennesima prevaricazione ma non ci fermiamo, continuiamo. Hashtag Allegri Out tutti i giorni, fino alla fine.